Ciao ragazzi, prendiamo anche l'ora, riprendiamo, immancabile l'ora che fa vedere che dove sono Il elemento è di ruolo, Carlo dici qualcosa, ma mi stai prendendo anche te, sei fuori di testa Carlo già ti sta gravando addosso, no, dove siamo? Cascina, non si vedeva, c'è Cascina, io cammino Sì, a fratino a cazzo, successe le cosette, inizialmente non è di video C'è il lago di scienza di lago Ci vuole la macchina, ci vuole il canotto E qui è proprio amorosa, noi ci siamo nel mezzo e, beh, se non torniamo vi indicare molto Sì, togli un po' con i pali, dai Allora, che te ne vanno? Buon cane! Ciao! E la manosso, che ti metta sui ducchi? Così tanto no, no? Noi è buonissimo, è da spara che ti stai a somma filmiamo sulla macchina d'arri salviamo, bravissimo grazie a tutti Sì, non mi hanno fatto più. Allora, qualora c'è? Si fa 60. 60. Forse non vogliono più corrido, se ne vado di gira, potrò trovarsi. È vero? Vieni. Ci abbiamo il diadio di bordo, ho preferizzato. Hai paura che si affannasse tutto. Strappa, no? Sì, non so. Guarda, ma tu fai un buon video. Deci anni. Stai facendo un che porno? Che porno. Sì, vedi quell'altro rito di prima. Dio, questo è il mio pezzo. Oh, andiamo a vedere come lo scolmatore. Pulmino, Dio bestia! Hai preso? Hai preso davvero? La luce? Eh, oh. Che lo è sto confuso questo? Eh? Tranquillo, pomeriggio di paura. Eh, mettilo su YouTube, lo veste, vai. Con questo cazzo di camper che ci sorpassa. Eh, giustamente. Non si capisce ancora la motivazione ben precisa. Eh, i camper volano davanti. Tanto che è grosso, non fa una scena. Eh, qui c'è. Un altro cazzo di camper è l'invasione dei camper. Uguale a quello di prima che ci sorpassa. È l'invasione del camper che sta lì. Di Firenze. Esatto, giustamente. Tra un po' si esce da lì. Quanto a fuori si è pentato? Da fuori, ma vedi? Sì, è pieno. Vedi il riflesso. Il riflesso. Il riflesso. Certo. Un povera macchina. Un povera macchina. Se la vede, ricorda la Jeep è la distruzione. Non c'è una segna. Quanto è così via da quella mia? Della Jeep? È basso, niente più? No. No, infatti. C'è il problema di 4x4. Cazzo, non so. Quali sono le 4 litri? Voi, via. C'è idea, ma che cazzo fate? Sì. Qua si va a rivolgere. Carlo, ma staccare di tenere? Da quanti anni lo fai? Ti lo faccio a 2 minuti. Io l'ho fatto di... Una decina di minuti e passa. Ah, però. Quanto è quella che l'ha attaccato? Eh, quanto più ve la con me sta attaccato. Vado a vedere cosa facciamo nel video. C'è un video. La Jeep in murica c'è. Alla frittà della Hava.